Ciao ragazzi, mi hanno fermato i carabinieri in diretta di parrucca, cucchiali, sono stati gentilissimi, perché mi hanno chiesto cosa sta portando dietro, cosa sta portando dietro? Opere di bene gli ho detto, opere di bene, adesso speriamo bene, sono qui fermo, mi stanno guardando, che maschioni con quegli occhiali lì scuri, che fascino con quella macchina blu lì, un blu di bluse che a me non piace, però c'è quella riga rossa lì, ci sarebbe venuto scritto pazzi di raggi, e live tv, e live tv, e live tv, canale 16, in diretta, in diretta, pazzo, fermato dai carabinieri, però sono gentilissimi e sono brave persone proprio, c'è quello lì che immano il fucile, che non so che cosa sia, o che va a caccio, no ragazzi, bellissimo, però state qui, state qui che sta arrivando il mio amico adesso, grazie gentilissimo, grazie, buona giornata a lei, la patente me l'ha ridata, quindi è già buona cosa, fratelli, in diretta, in diretta, sua come la patente me l'ha ridata, io sarebbe avvaluta essere ferma, e dai la patente me l'ha ridata, in diretta, Food were a caccio,books è benusti per dipende, carica pelo porco, carica pelo porco, carica pelo, si ricomincia signori, si ricomincia lo stettacolo, doveva succedere prima o poi, doveva succedere prima o poi, ciao ragazzi, quando mi hanno formato mi hanno detto, ma dove stai andando così, troppo belli, Paolo Bullani, buon compleanno e live tv, ragazzi mi raccomando, i pazzi di rugby, pazzi di rugby on tv, ricomincia, riparte, martedì 10, siamo ai live tv, martedì e giovedì, come sera la settimana, pazzi di rugby on tv, vi aspettiamo come ospiti, perché i veri protagonisti siete voi, auguri Paolo Bullani per i tuoi 30 anni portati, malissimo, ciao, oh, stasera la festa a Palenche dei Garda, mi raccomando, dal curso, dalle 19 e 30, 21 e 30 lo spettacolo, mi raccomando, ho invitato tutti i carabinieri, ho invitato anche loro, ho invitato anche loro, ho invitato anche voi, è bello eh, mi compro un libro, non me l'hai comprato, pensavo che lo lasciavo, no bello, dai 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 dai, mi scusi, ma devo stare andando a sito così, ma è il venerdì dei pazzi, è il venerdì dei pazzi di rugby, ragazzi, buon venerdì e buona vita a tutti, auguri a Paolo Bullani, a Marco Treccani, il nostro ingegnere dei pazzi di rugby, fa camionista, ma l'altra c'è un ingegnere, tutto bene, ciao ragazzi, vi aspetto stasera, vi aspetto stasera, ciao ragazzi, vi aspetto stasera, a Palenche dei Garda, 19 e 30, finito a 30, spettacolo con Andrea Cantavolo, mi raccomando, Andrea Cantavolo, oh, ingresso libero, Gianni, mi dico che non pagano io, mi dico che non pagano io, ma Beppe dai, vieni con la silba, dai, beppe grande, oh, mi raccomando, stasera, ciao pazzi, ciao Ciao Daisy, ciao Deborah, ciao Roberta, ciao Federica, ciao, e la social media manager, ciao, oh Michela, ciao, ciao Michela, va piano stasera, perché ecco la panta, è già partita Michela, Michela sapeva che doveva, è già partita, perché lei va a piano, Michela la va tanto a piano, va tanto a piano, che ragazzo lei ha chichettato l'air bombando la pè, ciao ragazzi!